Cricca in lacrime ad amici, Maria, non toglie niente alla tua dignità. Cricca arriva al quinto appuntamento con il serale di amici con una settimana emotivamente difficile sulle spalle. Il percorso nella scuola è all'attivo dallo scorso settembre, la tensione è sempre alta e lo scontro tra gli allievi è sempre più serrato. Ognuno con il suo talento, i cantanti di quest'edizione stanno portando avanti una sfida davvero complessa e Cricca si lascia andare all'emotività. Quasi al termine della serata, Cricca finisce al ballottaggio con Federica e Remona. È il momento di esibirsi nell'ultima prova, che determina la scelta dei giudici di salvarlo dal rischio eliminazione. Ma qualcosa non va e Maria se ne accorge. Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti. Quando diventi muto, mi devo sempre preoccupare, quando il mutismo è prolungato. Ti voglio dire un po' di cose, che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Che questo non toglie niente alla tua persona, alla tua dignità, al tuo orgoglio. Ma proprio niente. Lui si calma e porta a termine la performance. Se l'emotività è contenuta per il tempo dell'esibizione, al termine Cricca di lascia andare alle lacrime. È uno sfogo che deriva da una tensione accumulata durante l'ultima settimana, che per lui è stata piena di pensieri poco positivi sul suo percorso. Ma che ti sei messo in testa? È una settimana che sei così. È una settimana che hai stabilito che tu sei la mediocrità. Non te l'ha mai detto nessuno, dice Maria che lo raggiunge dispiaciuta. Cricca è accerchiato dai compagni Ramone e Federica. Che lo abbracciano e lo consolano, ma la conduttrice preferisce dargli il tempo per riprendersi. Ci prendiamo un momento, fa sapere, prima di mandare lo stacco pubblicitario e far respirare il cantante. Ci prendiamo un momento, saltate